Ha già fatto l'analisi di quelli che è stata la situazione e gli interventi fatti fino ad oggi e la volontà di andare a implementare questi interventi. È ovvio che questo si inserisce in un quadro di progettualità che noi stiamo portando avanti anche per la valorizzazione delle cascine come luogo di socialità e luogo da far vivere ai nostri cittadini. E che i due temi, il presidio da parte delle forze dell'ordine e dall'altra parte la socialità, devono andare di pari passo, con interventi anche che sono interventi strutturali all'interno delle cascine. Vi porto un esempio concreto. Negli ultimi tempi l'assessore Giorgio aveva avuto contatti con le pavoniere, dove siamo andati ad aumentare l'illuminazione. Questo ha aiutato a eliminare tutta una serie di problematiche che c'erano intorno alle pavoniere. Abbiamo i lavori che si dovranno concludere al piazzale Vittorio Veneto alla pagoda, che diventerà un luogo di socialità per cui un ulteriore presidio sul territorio, e tante altre azioni, come avevo anche annunciato ieri, che verranno portate avanti con la fondazione per le cascine, per cui con un ente parco che potrà gestire insieme tutte le attività. Ma oltre questo abbiamo deciso, e poi verrà raccontato nei dettagli, di andare a dare un'ulteriore risposta. E ringrazio sia la Questura, le Forze dell'Ordine, e il nostro comandante della Polizia Municipale, che ha deciso di mettere risorse ulteriori per avere un presidio che sia un presidio, sotto il punto di vista della sicurezza, sempre presente alle cascine, oltre a quello che è stato fatto fino ad oggi, per cui per andare a implementare. Noi l'abbiamo sempre detto che le cascine sono una priorità, e siamo consapevoli che le progettualità, che sono le progettualità per far vivere le cascine, devono essere accompagnate ovviamente da un presidio che è attenzione sul quale si interviene, sulle problematiche legate alla sicurezza, alla microcriminalità e allo spaccio. Vogliamo fare in modo che ci sia un'ulteriore accelerazione su quelli che sono stati i risultati raggiunti fino ad oggi, ma che, come ha detto la prefetta correttamente, non basta, vogliamo incidere in maniera reale. Sappiamo benissimo che se noi mettiamo in funzione la pagoda e eliminiamo, faccio un esempio concreto, il problema dello spaccio che c'è lì accanto, che crea non solo disagio, ma che poi spesso è collegato agli episodi di microcriminalità, è chiaro che noi facciamo un'operazione che dà una risposta vera alla città. Per cui la decisione da parte dell'amministrazione di andare a aumentare le risorse, avere, fatemela dire con una battuta, la polcascine, la possibilità di avere un presidio dedicato, ci aiuta a dare risposte ai nostri cittadini.